Allora, buongiorno ragazzi, facciamo una prova in una nuova aula. Poi vabbè, fatemi sapere come è andata dal punto di vista delle distanze, delle lavagne, delle luminosità. C'è già una luce che non funziona, quindi forse quest'angolo è un po' buio e questo è altissimo, quindi lo abbasso, scusate. Ok, allora, avevamo finito di parlare l'altra volta della statica dei fluidi, avevamo parlato di galleggiamento, avevamo introdotto il concetto di attrito interno ai fluidi, quindi avevamo parlato di viscosità. Oggi ritorneremo molto sul concetto di attrito e sul fatto che se consideriamo anche l'attrito, vi ricordate, vuol dire che stiamo considerando dei mezzi che sono viscosi, hanno una viscosità diversa da zero e quindi diamo la possibilità di esistere a delle forze di scorrimento, quindi delle forze tangenziali lungo superfici di fluido che si muovono a velocità differente. Quindi perché ci sia attrito che cosa deve succedere? Devono esistere regioni di fluido che hanno velocità diversa e quindi deve esserci un gradiente di velocità e in presenza di viscosità ci sono queste forze di trascinamento tangenziali. Vi ricordo che la viscosità, come abbiamo detto all'inizio, proprio nella definizione di fluidi, i fluidi sono un stato della materia in cui non c'è la possibilità di resistere, diciamo, a quelli che sono gli sforzi di taglio, le forze tangenziali. Quindi è vero che quando c'è attrito c'è, diciamo, una forza di richiamo di tipo tangenziale di uno strato di fluido sull'altro, ma questo non può mai contribuire al raggiungimento di un equilibrio statico quando abbiamo delle forze di taglio. Quindi se noi vogliamo considerare un sistema di tipo statico, vogliamo considerare dei fluidi inquiete, allora non devono esistere delle forze di taglio. Se invece abbiamo un sistema dinamico, possiamo avere un sistema dinamico che ha raggiunto, diciamo, quello che si chiama un equilibrio dinamico, quindi in cui si muovono gli oggetti con velocità costante, allora in quel caso possiamo ottenere, in quel caso effettivamente gli attriti possono giocare un ruolo. Quindi che sia chiara la differenza delle due situazioni. L'esistenza dell'attrito è importante per determinare la dinamica ed eventualmente l'equilibrio dinamico, ma comunque sia non è sufficiente per garantire la presenza di un equilibrio statico in presenza di sforze di taglio. Quindi se ci sono delle sforze di taglio, i fluidi comunque sia non possono mai essere in un equilibrio statico. Spero che questo sia chiaro. E abbiamo visto un esempio di quello che succede quando ci sono dei fluidi viscosi, quindi in cui sostanzialmente il, come dire, in cui c'è questo effetto di trascinamento di uno strato di fluido sul successivo, abbiamo visto l'esempio di quello che succede quando mettiamo un rotore, un condotto con all'interno un cilindro, se vogliamo, con all'interno del fluido, lo mettiamo in rotazione, abbiamo visto come si forma quella specie di profilo che è un paraboloide, quindi una parabola, diciamo, tridimensionale, quindi in cui l'asse della parabola è parallela all'asse 0, all'asse z e la parabola si estende lungo l'asse x e lungo l'asse y. E avevamo fatto in modo di derivare l'espressione del paraboloide nei due modi. Quindi, terminando di parlare della statica dei fluidi, che quindi, ricapitoliamo, prevede sostanzialmente la relazione tra, la scrivo qua perché tanto poi dopo la cancelliamo, la pressione e la quota, che da cui possiamo derivare la legge di Stevino e il principio di Pascal, la presenza, tutto il concetto sulla presenza di forze di volume e forze di pressione che ci hanno portato al principio di Archimede e tutte le discussioni che abbiamo fatto sul galleggiamento. Bene, stabilito tutto ciò, possiamo iniziare a parlare della dinamica dei fluidi e iniziamo da questa parte. Allora, il motivo per cui ho scelto quest'aula è che ha quattro lavagne, il che permette di non avere l'effetto di rimbombo, diciamo, quando scrivo, però avendo la telecamera in quella direzione io copro esattamente quello che scrivo, quindi cercherò di tenerlo presente. Ok. Allora, come facciamo per parlare della dinamica dei fluidi? Quindi, cosa vuol dire dinamica dei fluidi? Andare a studiare dei fluidi che non sono più in equilibrio statico ma in movimento. Ci sono ancora nell'inquadratura, spero. Allora, abbiamo due possibili approcci. Il metodo cosiddetto di Lagrange e il metodo di Eulero. In cosa si differenziano questi due modi? Beh, il metodo di Lagrange è il metodo classico, cioè andiamo a prendere tutti quanti gli elementi del fluido e per ciascun elemento di fluido ci costruiamo la legge oraria. Quindi, prendiamo ogni elemento materiale di fluido e per ogni elemento materiale di fluido scriviamo come evolve la sua posizione nel tempo, che quindi dipenderà da quella che era la sua posizione iniziale e dal tempo. E I è n che tende all'infinito se andiamo a fare un sistema continuo, l'insieme dei punti. Allora, lo sapete già, capite che questo è un approccio completamente impraticabile perché dovreste andare a considerare gli infiniti elementi di materia, diciamo, in cui potete suddividere il vostro fluido. La descrizione euleriana, invece, è più sottile e particolare. Che cosa prevede? Prevede di utilizzare delle grandezze fisiche, non ne introduciamo di nuove, usiamo quelle solite, ad esempio la velocità e la quantità di moto, per dirne due, che descrivono che cosa? Lo stato di moto, perché stiamo parlando della dinamica, ma non lo stato di moto di un elemento nel tempo, ma lo stato di moto del fluido quando passa in una particolare posizione. Quindi esprimiamo la velocità, la quantità di moto e le altre grandezze, non di ogni singolo elemento di fluido. Quindi noi non ci concentriamo sull'elemento di fluido e lo seguiamo. Noi andiamo a prendere la nostra condottura, il nostro condotto, dove ci sono i fluidi, e diciamo, ok, in questa posizione qua, il fluido, questa qua, identificata, passa con una certa velocità e una certa quantità di moto. In questa posizione qua, il fluido passa con una certa velocità e una certa quantità di moto. Che possono non essere costanti nel tempo, possono cambiare nel tempo, ma sono caratteristiche della posizione. Quindi qualunque flusso passi in quell'istante lì in questa posizione, avrà quei valori della velocità e della quantità di moto. Quindi io non descrivo più ogni elemento di fluido, ma descrivo le caratteristiche del movimento complessivo del fluido in funzione della posizione. Ok? Quindi tutti gli elementi di fluido che nel tempo passano in questa posizione non avranno la velocità descritta da questa legge qua. Questa cosa ha un ulteriore vantaggio. Perché? Scusate, sono più bassa di quanto pensassi. Se siamo in regime stazionario, cosa vuol dire regime stazionario? Regime stazionario vuol dire che le condizioni, le caratteristiche del movimento non cambiano nel tempo. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la velocità o la quantità di moto, o qualunque altra cosa, non è più funzione della posizione del tempo, ma è funzione soltanto della posizione. Perché se il regime è stazionario, vuol dire che le caratteristiche del moto non cambiano nel tempo. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che la mappa delle velocità è immutabile. La mappa delle velocità non cambia nel tempo se il moto è stazionario. E quindi che cosa succede? Succede che nella descrizione di Eulero nel regime stazionario, io posso eliminare il riferimento al tempo. Nella descrizione di Lagrange, non posso togliere il tempo, perché la descrizione lagrangiana, che cosa mi dice? Mi dice l'evoluzione dell'elemento di fluido che sto considerando, che continuerà a muoversi. E anche se, diciamo, attraverserà certe zone di fluido sempre con la stessa velocità, tutti gli elementi di fluido che passano attraverso certe zone del condotto avranno sempre la stessa velocità, ogni elemento di fluido avrà una sola evoluzione temporale. E quindi non posso togliere T. Ok? Questo è un ulteriore vantaggio dell'approccio oleriano, che nel caso in cui abbiamo a che fare con un moto di tipo che si avviene, diciamo, in regime stazionario, quindi costante nel tempo, con le caratteristiche del moto costante nel tempo, posso simpaticamente eliminare quella che è la dipendenza temporale. per descrivere il moto abbiamo bisogno di un paio di costruzioni utili. La prima sono le linee di flusso o linee di corrente. Che cosa sono? Sono sostanzialmente delle linee che sono in ogni punto tangenti alla velocità. Ok? Sono delle linee geometriche che sono tangenti che hanno la stessa direzione e verso della velocità. Quindi sono tangenti alla velocità o la velocità è tangente alle linee di flusso. Questo che cosa comporta? Se la velocità è in ogni punto tangente alle linee di flusso, vuol dire che le linee di flusso ci danno la traiettoria degli elementi di fluido. Quindi ci dicono come si muovono gli elementi di fluido. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, ovviamente, le linee di flusso non si intersecano. Perché se si intersecassero in quel punto il nostro elemento di flusso avrebbe due velocità che chiaramente è privo di senso. Ok? Quindi le linee di flusso sono delle linee geometriche che hanno sempre la direzione e il verso della velocità e quindi descrivono la traiettoria degli elementi di flusso. E per questo motivo non si intersecano mai perché gli elementi di flusso di fluido, scusate, hanno una sola direzione quindi non possono avere più di una velocità per ogni punto. Collegato al concetto di linee di flusso e che ci verrà molto comodo ci verrà molto comodo quando dovremo fare una serie di definizioni c'è il concetto di tubo di flusso. Che cos'è il tubo di flusso? Allora, nel caso di moto stazionario, di regime stazionario cosa succede? Nel caso di moto stazionario le linee di flusso hanno una configurazione costante perché se il moto è stazionario vuol dire che, come dicevamo prima, la velocità è funzione della posizione ma non del tempo. Ok? Quindi se il moto è stazionario scrivo veramente da cani, scusate, allora le linee di flusso sono costanti hanno una configurazione costante nel tempo e quindi posso definire il tubo di flusso. Che cos'è il tubo di flusso? Il tubo di flusso è l'insieme delle linee di flusso che partono da una linea chiusa disegnata perpendicolarmente al flusso. È molto più complicato dirlo piuttosto che pensarlo. Voi prendete, supponete di avere una condotta, supponiamo che il fluido sgorchi in questa direzione, prendete una linea chiusa perpendicolare alla direzione del flusso e andate a prendere l'insieme non so disegnarlo questo andiamo a fare così, ok l'insieme delle linee di flusso che partono da tutti quanti i punti di questa superficie chiusa. quindi ne avremo questa... Ok, questa la facciamo di taglio, ok? Quindi voi avete sostanzialmente... Ah, ho bisogno di due mani. Se questo è il vostro condotto voi prendete una superficie chiusa che è perpendicolare alla direzione del flusso quindi qua l'insieme delle linee di flusso che partono da questa superficie chiusa definiscono un tubo di flusso. Quindi proprio la definizione è la superficie scriviamola nell'altra lavagna così la possiamo scrivere in grande il tubo di flusso è la superficie delimitata più che delimitata forse definita non ci piace di più definita da tutte le linee di flusso che partono da una superficie chiusa scusate da una linea chiusa nel piano perpendicolare alle linee di flusso quindi il tubo di flusso è la superficie quindi questa roba qua intorno definita da tutte quante le linee di flusso che partono da una linea chiusa che possiamo, non so, chiamare gamma in analogia a quanto abbiamo fatto con gli integrali che si trova dove? Nel piano perpendicolare alle linee di flusso quindi nel piano perpendicolare alla direzione di movimento del fluido ok? Definizione di tubo di flusso perché è interessante il tubo di flusso? Il tubo di flusso è interessante per una serie di motivi prima cosa tutti gli elementi che sono all'interno del tubo di flusso non possono andare all'esterno perché se andassero all'esterno cosa succederebbe? Avremo delle linee di flusso che attraversano la superficie del tubo di flusso e quindi intersecano delle altre linee di flusso e quindi in quel punto avremmo che si intersecano le linee di flusso cosa non possibile per la definizione per lo stesso motivo gli elementi di fluido che si trovano fuori dal tubo di flusso non possono entrare all'interno del tubo di flusso quindi è carino perché ciò che c'è all'interno restano all'interno quindi gli elementi di fluido interni sono confinati all'interno mentre quelli esterni sono bloccati all'esterno quindi gli esterni non entrano perché altrimenti come dicevamo avremmo che si intersecano le linee di flusso e questo vuol dire che il tubo di flusso ci permette di individuare che cosa? Una porzione di fluido completamente separata sia da quello che lo circonda quindi possiamo andare a valutare eventualmente l'azione del resto del fluido sul nostro tubo di flusso ok? Quindi costituisce sostanzialmente una porzione individua una porzione separata di fluido su cui possiamo appunto come dicevamo andare a vedere l'effetto del resto del fluido ovviamente può coincidere il tubo di flusso con l'intero condotto ok? Quindi eventualmente perché posso prendere come linea chiusa la linea che delimita la conduttura quindi nel caso di un condotto diciamo a sezione circolare il cerchio diciamo che ci dà la sezione della condotta quindi eventualmente anche l'intera ok bene è tutto molto bello e andiamo a vedere quali sono le prime regole le prime diciamo equazioni che ci permettono di analizzare il moto di un fluido attraverso una condotta vi ricordo che stiamo per prima cosa utilizzando considerando dei fluidi ideali quindi siamo in assenza di viscosità densità è omogenea eccetera eccetera sono irrotazionali ma di quello parleremo meglio tra poco cioè non ci sono vortici il regime è soltanto lineare la prima equazione con cui abbiamo che fare è sostanzialmente l'equazione di continuità della massa di conservazione della massa e questa è una cosa che non dipende semplicemente dal fluido ma vale in generale però può essere riscritta in un modo più interessante quando abbiamo a che fare con una condotta all'interno della quale scorre un fluido chiaramente è un principio che vale in assenza di perdite ok quindi la conservazione della massa nei fluidi sostanzialmente prende il nome di equazione di continuità e strettamente legato a questo all'equazione di continuità c'è il concetto di portata che indicheremo con la lettera Q allora dicevamo che l'equazione di continuità cosa ci dice? sostanzialmente non ha nient'altro che il principio di conservazione della massa in un condotto senza perdite per un fluido in moto la conservazione della massa in generale che cosa dice ok la conservazione della massa dice che la quantità di massa per unità di tempo che entra all'interno di un condotto è uguale alla quantità di massa che nella stessa unità di tempo esce dal condotto ok nell'applicazione di un condotto abbiamo detto senza perdite e supponiamo anche che sia rigido perché se il condotto non è rigido e si può allargare può fare l'effetto boa boa non nel senso boa di galleggiamento boa nel senso del serpente che non so se avete presente del piccolo principe ok è chiaro che in questo caso non vale più la conservazione della massa perché entra qua se ne accumula prima che esca dall'altra parte quindi il condotto deve essere rigido e non deformabile e abbiamo detto il fluido ideale il condotto è così e il fluido ideale ma in questo momento quello che ci interessa è che sia con densità costante ma questo lo vediamo tra un secondo quando gioca rigido e non deformabile ok l'applicazione il concetto di tubo rigido oltre ad evitare questa cosa fa sì che il tubo di flusso sia non deformabile neanche lui perché se il condotto è rigido in un moto di tipo scusate se il condotto è rigido appunto se abbiamo a che fare con un moto di tipo stazionario allora il tubo di flusso è costante perché è indeformabile anche lui perché se non si deformano le pareti del recipiente non cambiano neanche la direzione delle velocità e quindi il tubo scusate il tubo di flusso rimane costante allora la condizione di conservazione della massa è legata l'ho già detto adesso in maniera implicita mentre parlavo adesso lo risottolineiamo è legata al concetto di stazionarietà perché il movimento della massa perché la quantità di massa che entra sia uguale alla quantità di massa che esce che esce c'è bisogno che la mappa delle velocità sia costante a tutti i tempi perché e quindi che il regime sia stazionario quindi riassumiamo tutto quello che abbiamo detto la conservazione della massa ci dice che la quantità di massa che entra a un capo del condotto quindi prima la scriviamo e poi facciamo i simboli quindi la quantità di massa per unità di tempo che entra in un condotto che abbiamo detto non deve avere perdite ed essere rigido è uguale alla quantità di massa per unità di tempo che esce ok allora la quantità di massa per unità di tempo che entra in un condotto deve essere uguale la quantità di massa per unità di tempo che esce dal condotto e questo vale sia in un condotto in generale che quindi deve essere rigido ma vale anche in un generico tubo di flusso che quindi deve essere indeformabile perché questa condizione sia realizzata che la quantità di massa che entra sia uguale alla quantità di massa che esce il moto deve essere stazionario ok perché se avessimo delle variazioni nel tempo delle velocità avremmo non avremo più una conservazione della massa che passa per unità di tempo scusate ho perso il cancellino che deve essere qua ok potremmo avere delle variazioni della massa per unità di tempo che entra rispetto a quella che esce se la velocità la mappa delle velocità cambiasse nel tempo quindi questa cosa è equivalente a richiedere il moto stazionario che come vi dicevo richiede il fatto che la mappa delle velocità sia costante nel tempo ovviamente non nella posizione ok quindi il principio di conservazione della massa all'interno di un condotto all'interno di un tubo di flusso per un fluido in moto ci dice che la quantità di massa per unità di tempo che entra deve essere uguale alla quantità di massa per unità di tempo che esce da che cosa da un condotto e quindi in questo caso abbiamo la richiesta che il condotto sia rigido o da un tubo di flusso che quindi deve essere indeformabile questo è equivalente la richiesta di conservazione della massa è equivalente alla richiesta di un moto stazionario ok in cui la mappa delle velocità in funzione della posizione è costante in funzione del tempo cioè la velocità è funzione soltanto della posizione ma non cambia questa funzione nel tempo andiamo a vedere che cosa vuol dire dal punto di vista matematico allora questo supponiamo che sia il nostro condotto ok supponiamo di avere che il condotto abbia qua una sezione S1 qua una sezione S2 e che cosa succede? beh andiamo a considerare una certa quantità di massa nel nostro condotto una certa quantità di massa occuperà un certo volume all'interno del nostro condotto quindi vuol dire che consideriamo la massa contenuta all'interno di questo volume che possiamo definire andando a prendere quella fettina di fluido spessa di L1 l'equazione di continuità che cosa ci dice? l'equazione di continuità ci dice che la massa per unità di tempo quindi di M1 in DT1 che è la massa che entra all'interno del condotto deve essere uguale alla massa per unità di tempo che esce dal condotto vuol dire che quando andiamo nel capo 2 se M1 nell'unità di tempo è la massa che entra questa deve essere uguale alla massa che esce allora questo cosa vuol dire vuol dire che se qua entra una certa massa in un'unità di tempo qua dovrà uscire la stessa massa e quindi come andiamo a esprimere la massa qua la massa abbiamo detto che la possiamo esprimere in funzione del volume che occupa attraverso la densità quindi abbiamo che vi ricordo che la densità è il rapporto massa fratto volume quindi la massa e la densità per il volume quindi qui abbiamo rho1 per M scusate stiamo parlando rho1 per il volume V1 che quindi è la sezione S1 per la lunghezza di L1 in DT andiamo a considerare degli intervalli di tempo infinitesimi deve essere uguale a quella che esce dall'altra parte quindi la massa M2 occuperà un volume V2 che sarà dato dal prodotto tra S2 e delta L2 quindi avremo S2 di L2 in DT dove abbiamo usato il fatto che il volume V1 è S1 per DL1 e il volume V2 sarà S2 per DL2 ok ora abbiamo preso due punti qualunque della nostra condotta primo e questa che cosa rappresenta? beh questa rappresenta la velocità di movimento del fluido nella posizione 1 e nella posizione 2 poiché abbiamo preso due punti generici questo ci fa concludere che Rho per S per V deve essere costante ok allora se il fluido è incomprimibile e quindi come succede ad esempio per i liquidi la densità è costante vi ricordo che i liquidi sono incomprimibili sono incomprimibili la densità è costante in tutto quanto il fluido e quindi questa relazione si riduce invece alla relazione S per V uguale costante che è quella che chiamiamo l'equazione di continuità e definiamo il prodotto tra la sezione e la velocità del flusso in quella posizione la definiamo portata volumica ok è una portata volumica del tubo di flusso che può essere la portata volumica del condotto se il tubo di flusso scusate equivale al condotto attenzione è una super phi è una sezione per una velocità quindi dal punto di vista dimensionale dunque è una sezione quindi è una lunghezza al cubo per un tempo alla meno uno quindi si misura nel sistema internazionale in metri cubi al secondo ok quindi è appunto una portata volumica cioè vi dice quant'è il volume di fluido che passa che può passare nell'unità di tempo all'interno di quel tubo di flusso ok che può coincidere con l'intera condotta se vogliamo invece la portata massiva o massica forse qualcuno dice anche per che cosa dobbiamo fare dobbiamo moltiplicarlo per la densità per passare dal volume alla massa ovviamente questa invece è l'equazione di continuità che è particolarmente interessante perché ci dice che il prodotto sezione volume rimane costante e quindi ci dice come sempre che quando la sezione aumenta la velocità diminuisce se la sezione diminuisce la velocità deve aumentare e questa è un'indicazione importante della come cambia la velocità all'interno di un tubo di flusso o all'interno di un condotto in generale quando cambia la sezione del condotto quindi qua il fluido si muoverà più lentamente rispetto a qua e torna perché perché nello stessa unità di tempo qua il fluido deve percorrere un tratto di L1 che è più piccolo del fluido del tratto di L2 che deve percorrere là perché deve essere più lungo perché sappiamo che i due volumi diciamo che le due masse quindi se le due masse devono essere uguali a parità di densità vuol dire che i due volumi devono essere uguali e se i due volumi devono essere uguali essendo qua la sezione maggiore di là vuol dire che l'altezza di questa specie di cilindro deve essere più piccola qui rispetto a lì e quindi nello stesso tempo qui devo percorrere un tratto di L1 più piccolo del tratto di L2 che devo percorrere là quindi qui ho una velocità più piccola rispetto a quella attenzione quindi la conclusione se questa appunto è la definizione di portata è che se abbiamo un circuito idraulico chiuso chiuso vuol dire che non ci sono perdite ok allora la portata è costante se il fluido è incomprimibile quando è che quindi un circuito idraulico chiuso quindi senza perdite ha una portata costante cioè quello che metto è quello che passa nell'unità di tempo è uguale in ogni punto del circuito se il fluido è incomprimibile attenzione che cosa succede quali sono i fluidi che possiamo considerare incomprimibili beh sicuramente i liquidi ok ma in alcune condizioni possiamo considerare incomprimibili anche i gas cioè quando la velocità del fluido è molto minore della velocità del suono allora se andate a vedere sull'e-learning vi ho messo un paio di cose su quello che è il boom sonico che è un fenomeno che avviene a causa delle onde di pressione che si formano che sono diciamo particolarmente significative quando la velocità di movimento del vostro oggetto raggiunge una certa velocità critica che è la velocità del boom sonico sostanzialmente allora c'è un caveat su questa cosa che è il fatto che la portata è costante nel complesso del circuito quindi dobbiamo farla se andiamo a calcolarla sulla sezione completa del circuito cosa vuol dire la sezione completa del circuito vuol dire che se il circuito si ramifica è costante la portata una volta che io la sommo su tutti quanti i rami del circuito spieghiamolo supponiamo di avere un circuito che si ramifica ok allora la conservazione della portata richiede che io consideri una sezione completa del circuito quindi qua la sezione completa è questa quindi la portata Q lì nella posizione 1 sarà data dal prodotto tra la sezione 1 e la velocità V1 quando poi questo si ramifica questa portata è uguale a che cosa? alla portata complessiva che io misuro su una sezione completa del circuito cioè andando a sommare la portata del braccio 2 del braccio 3 e del braccio 4 quindi questo sarà uguale a S2 V2 più S3 V3 più S4 V4 ok? questa è quello che si chiama una sezione completa quindi non posso andare a fare un'equivalenza tra la portata qui e la portata qua è equivalente la portata in ingresso e la portata la somma diciamo delle portate di tutti i rami in cui si distribuisce il circuito questo lo possiamo scrivere in un modo carino nel senso che possiamo scriverlo come la somma delle sezioni S1 più S2 più S3 per la velocità media del fluido nelle sezioni dove la velocità media è definita come la media pesata sulle sezioni quindi la velocità media sarà V1 S1 più V2 S2 più V3 S3 diviso S1 più S2 più S3 o scrivendolo in forma più compatta la somma su I di S1 V diviso le somme di S1 Allora un esempio classico di sistema che si ramifica ovviamente è il sistema cardiocircolatorio in cui noi abbiamo una certa quantità di sangue che viene pompata dal cuore immessa nelle arterie principali e poi da questa che cosa succede? Si ramifica in tutti quanti i capillari e la conservazione della portata è una cosa che noi possiamo utilizzare per andarci a calcolare ad esempio il numero medio di capillari che ci sono all'interno dell'organismo in che modo? Beh che cosa sappiamo? facciamo nel sistema cardiocircolatorio cardiocircolatorio umano allora sapete tutti quanti che la portata di quanto è? Provate a rispondere è di circa 5 litri al minuto se fosse 5 litri al secondo ci distangueremo in un attimo 5 litri al minuto a noi interessano delle unità di misura un po' più umane quindi dobbiamo passare a quelle del sistema internazionale un litro è abbiamo detto un decimetro cubo e quindi se vogliamo passare ai metri cubi abbiamo un 10 alla meno 3 scusate un litro è un decimetro cubo ci interessa in realtà ci interessa il cgs vabbè comunque sono 10 alla meno 3 iniziamo a metterci in questo ok un minuto sono 60 secondi ok quindi se noi facciamo 5 diviso 6 sostanzialmente otteniamo tu 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 beh mettiamoci in qualcosa di più comodo mettiamoci i centimetri perché poi le unità di misura in cui abbiamo le arterie sono i centimetri quindi un decimetro cubo sono 10 alla 3 centimetri cubi quindi abbiamo 5 per 10 alla 3 diviso 6 per 10 quindi abbiamo un 5 diviso 6 per 10 alla 2 5 diviso 6 fa circa punto 8 punto 8 per 10 alla 2 giusto punto 8 per 10 alla 2 fa 8 circa 80 centimetri cubi al secondo se fate i conti dovrebbe venire un 83 se fate i conti precisi dal 5 diviso 6 allora che cosa abbiamo sappiamo che il raggio della orta è di circa un centimetro e la velocità media nella orta è di circa 25 centimetri al secondo ok un capillare un capillare ha un raggio medio dei capillari di 4 micron ok quindi un capello sostanzialmente e ha una velocità media perché parliamo di velocità media perché non tutti quanti i capillari sono uguali non tutti quanti i capillari hanno lo stesso raggio quindi non tutti quanti i capillari avranno la stessa velocità di 0,05 centimetri al secondo allora guardate nella orta il sangue percorre 25 centimetri cioè un tratto più lungo della mia spalla spanna ogni secondo ok e nella orta passano tutti quanti i nostri litri di sangue per questo l'aneurisma della orta è pericoloso perché ha una portata molto grande quindi se voi la velocità anche di uscita del sangue è molto elevata e quindi se voi avete una frattura in una orta o nella orta o comunque in un'arteria principale la quantità di sangue che passa è molto elevata ed il sangue è abbastanza veloce e quindi avete della riesce a fiotti sostanzialmente il principio di conservazione della portata ok che cosa ci dice ci dice che la sezione per il volume la sezione della orta per la velocità nella orta deve essere uguale a che cosa alla sezione dei capillari media per la velocità media nei capillari per il numero di capillari che abbiamo perché dobbiamo considerare una sezione completa quindi dalla orta si ramifica in un certo numero di capillari e quindi per avere la continuità per avere la continuità dell'equazione per poter applicare l'equazione di continuità e quindi valutare che si conserva il valore della portata devo considerare che tutto il sangue che io avevo nella orta si ramifica all'interno di un certo numero di capillari allora sostituiamo i valori che abbiamo trovato supponiamo che la sezione sia circolare quindi la sezione sarà pi greco per il raggio della orta al quadrato per la velocità media della orta deve essere uguale a questo numero di capillari per la sezione del capillare che è pi greco per il raggio del capillare al quadrato per la velocità media dei capillari allora il conto è presto fatto potete calcolarvi il numero dei capillari in che modo beh pi greco lo semplifichiamo il numero dei capillari è il raggio della orta al quadrato raggio della orta abbiamo detto che è un centimetro sì un centimetro che al quadrato fa sempre uno e questo va bene ci teniamo i centimetri qua di tanto sono tutte e due trasformiamo in centimetri il raggio del il raggio del capillare diviso il raggio del capillare al quadrato beh il raggio del capillare al quadrato è 4 al quadrato che è 16 micron quanto è un micron un micron sono 10 alla meno 6 metri quindi sono 10 alla meno 4cm quindi micron quadri sono 10 alla meno 8cm quadri ok quindi centimetri quadri centimetri quadri vabbè scriviamolo centimetri quadri centimetri quadri si semplificano poi ci sono i termini di velocità la velocità della orta non so perché l'ho scritta media perché è costante e vale 25 cm al secondo già semplificata con quella sotto che è 0,05 cm al secondo 0,05 detto anche 5 per 10 alla meno 2 allora che cosa abbiamo? abbiamo 5 per 10 alla meno 2 col 25 che si semplificano e qua ci rimane un 5 abbiamo un 10 alla meno 8 per un 10 alla meno 2 che fa un 10 alla meno 10 per questo 16 che possiamo vedere come 1,6 per 10 quindi abbiamo un 10 alla meno 8 10 alla meno 10 10 alla meno 9 e sopra abbiamo un 5 quindi ci rimane un 5 diviso un 1,6 che fa qualcosa dell'ordine dell'unità non ci interessa per stabilire l'ordine di grandezza e poi abbiamo un 10 alla meno 9 sotto e quindi otteniamo un numero pari a circa 10 alla 9 quindi 10 alla 9 è il numero di capillari che sono contenuti all'interno dell'organismo come ordine di grandezza bene, provo a spezzettarvele in pezzettini più piccoli e quindi mi interrompo adesso prima di farvi il teorema di Bernoulli